Bene, buongiorno. Quella che presentiamo nei prossimi giorni è una ricerca importante che fa una fotografia aggiornata e molto in profondità degli orientamenti delle marche nel nuovo ecosistema digitale. In queste settimane, in questi mesi sono avvenuti grandi cambiamenti anche nel comportamento dei consumatori, alcuni dei quali dureranno nel tempo, altri probabilmente no, ma tutti questi cambiamenti ci spingono a riflettere su come affrontare il mercato e la sua evoluzione in una fase storica di completa trasformazione dei mezzi di comunicazione. Questa ricerca cerca per l'appunto di fare luce su questa evoluzione e di spingere le marche grandi, piccole, le marche tradizionali, ma anche molte marche emergenti a prendere confidenza con il proprio valore e a proiettarlo in un mondo che prevede una modalità di competizione molto diversa da quelle che conosciamo. È un'occasione per tutti per discutere questi temi e per portare a casa i risultati di un approfondimento che servirà sicuramente nel futuro.